Grazie a tutti. Fotocopiami la voce! Fotocopiami la voce! Fotocopiami la voce Fotocopiami la voce Fotocopiami la voce Fotocopiami la voce! Fotocopiami la voce! Volevo far sentire che stamani ho registrato nella sua anello track con la voce vicino al metallo con un microfono particolare e l'ho fatta con il pedesco. Non so se dal telefono ci senti, fatti sentire questo reverso che esce da queste fratte di metallo, da queste lastre di metallo che esce, capito? Fotocopiami la voce! Aspetta la scena! Grazie! 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 Grazie!